L'Oclean è una startup innovativa imolese costituita nel 2015 per sviluppare un nuovo concetto di valvola, Lockpower. Il progetto Lockpower nasce dopo il deposito di un brevetto internazionale nel 2013 dai soci fondatori che hanno poi perseguito la costituzione della società ed hanno progettato, sviluppato e industrializzato il prodotto. È un dispositivo innovativo coperto da proprietà intellettuale che ha lo scopo di andare a efficientare le reti idriche e gli impianti industriali nella regolazione dei fluidi univocamente combinata al recupero energetico. Sostanzialmente si tratta di una valvola di regolazione che garantisce tutte le performance di controllo della pressione della portata dei liquidi e dei fluidi comprimibili senza nulla togliere alle caratteristiche comuni delle valvole più tradizionali. Una turbomacchina è integrata all'interno del corpo valvola ed è internamente bypassabile, quindi anche in qualsiasi condizione la valvola può sempre continuare a lavorare, a garantire il servizio primario e col valore aggiunto di poter efficientare non solo in termini di performance di impianto ma anche di efficientamento energetico e produzione di energia pulita. Grazie